allora ragazzi siamo qui alla pista comincia un nuovo corso innanzitutto di piste delle marche puntocom ritorniamo a fare le recensioni delle piste con il commento live siamo alla pista di notaresco in provincia di teramo una pista in abruzzo nord dell'abruzzo estremo nord dell'abruzzo quasi vicino alle marche la pista molto bella a un terreno diciamo di creta che quando umido a quella grip questa è la partenza di notaresco è una pista piccola per fare le gare è un impianto chiaramente non di prima categoria ma vi garantisco che è veramente veramente una pista divertente e anche con grandi diciamo sessioni tecniche ritmiche che possono mettere in una curva sinistra che tiene fatta a bob diciamo quindi a una margine di grip extra abbiamo poi il panettoncino in salita da prendere in curva e quindi una zona elettrica con questa curva di ritorno panettone di media grandezza da prendere abbastanza leggeri quindi altro panettone di media grandezza si scende con questo panettone di staccato a curva abbastanza tecnico altra sessione ritmica di salti con questo panettone di staccata sempre a media grandezza molto divertente altro tratto ritmico di nuovo termina con questo panettone bello grande quindi si sale in salita tratto alto del circuito doppia in salita stare attenti qui e ci si lancia nella parte bassa ora segnali in discesa molto forte e attenzione al tratto più ostico le waves si devono fare veramente senza sbagliare nulla si arriva al panettone chiamiamolo il traguardo finito il giro a gottalesco star cross a si a